Salve a tutti ragazzi e bentornati nella serie di sopravvivenza e benvenuti nell'episodio numero 237 Ho 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 yes ragazzi Finalmente siamo ritornati in questa serie dopo che gli ultimi due episodi in realtà sono stati delle live Nel caso vogliate anche voi partecipare alle live, le trovate sempre qui sul canale, sono salvate come video, si trovano nella playlist della survival E nel caso vogliate proprio partecipare nel senso durante la live, beh seguitemi su telegram, troverete il link qui sotto in descrizione così potete seguirmi Trovate anche il canale di tutti gli altri ragazzi della bio e il link per poter acquistare pure voi un server o stato da Nitrado Che è la compagna che ci osta dal 2017 ragazzi, questa serie è pazzesca sta cosa Ok momento spam finito così ci tenevo a farlo un pochino a inizio video visto che ragazzi di Nitrado sono sempre gentilissimi con noi Comunque nella scorsa vorrei dire puntata ma in realtà è stata una live abbiamo costruito questa faccia qui Questa sorta di mascherone scavato nella montagna che adesso vedremo che cosa mi farà fare insomma In questo episodio voglio principalmente dedicarmi al fare una sorta di aggiornamento diciamo per coloro che non hanno visto le live Non vogliono magari recuperarsi tipo due ore e mezza di live una e altre tipo tre ore per un'altra live Giustamente dite sì ma io non c'ho sbatti, avete ragione e per questo motivo ho deciso insomma di andare a creare questo video Insomma un pochino per aggiornarvi e poi iniziare il nuovo progetto Allora vi chiederete cosa ci fa qui una mucca? Adesso ci arriveremo, adesso ci arriveremo Allora dovrete sapere che nelle scorse puntate o meglio continuo a dire puntate perché per me sono state puntate ma in realtà sono live E ancora una volta vi rinnovo l'invito a partecipare alle live qualora ci siano Vi ricordate che nella scorsa puntata questa volta effettiva avevamo catturato una salamandra che avevo poi messo lì dentro Ecco la salamandra è morta, per qualche motivo è sparita E guarda caso è sparita in concomitanza di quando noi abbiamo portato questa mucca Che in realtà era una mucca gialla, era una Mubloom Ok, ma che per svariati motivi in realtà non ci sono strani motivi A un certo punto si è trasformato in una mucca normale E quindi da adesso questa qui è diventata la mucca impostora Impostore Insomma è un impostore questa mucca, ok? È Caindasus questa mucca quindi Visto che secondo la nostra lore che abbiamo creato qui all'interno delle live La mucca ha ucciso la salamandra Ha finito di essere una Mubloom Poi ha ucciso la salamandra e poi è ritornata lì dentro Togliendosi il travestimento da Mubloom e è tornata una mucca normale Ragazzi non ho pippato, è che bisogna inventarsi un pochino di lore Per rendere il tutto più interessante Cosa cazzo ci fai tu qui? No davvero, cosa cazzo ci fai tu qui? Trader, vieni subito qua Vieni subito immediatamente qui dentro No ragazzi, adesso... ma che palle Allora tu adesso devi fare una cosa molto bella Devi entrare qui dentro I mortacci tua Allora no, no, no No, no, no già... ok, vai Tu fottuto recinto Mi rendo conto che è una cosa un po' cattiva il fatto di rinchiudere i villager in un recinto Ok, 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 perfetto Perfetto Bravissimo No, c'eri quasi, c'eri quasi zio Allora, guarda Ok, ok, perfetto Bravissimo No, ora Resta qui dentro Ok, niente Piccoli imprevisti Sul lavoro qui Tutto calcolato Tutto risolto Tutto sistemato Stavamo dicendo Dobbiamo inventarci un pochino di lore Per mandare avanti questa serie, chiaramente E per rendere il tutto un pochino più carino, un po' più divertente Qui, vabbè, ci sono i gatti che ormai sono fuggiti dal... dal confinamento dei villager E... non è un confinamento in realtà È un villaggio, ok? Non è una cosa crudele Non stanno male i villager lì dentro Comunque Quindi, la lore è morta la mucca gialla ed è morta la salamandra Motivo per cui Qui, come potete vedere Adesso devo riuscire a trovarli Mucca gialla, episodio 236, parte 2 Che sarebbe la seconda live che ho fatto dell'episodio 236 Quindi vuol dire che in realtà Sì, io ci ho preso Ho detto giusto il numero dell'episodio di questa puntata Che è il 237 Yes E la salamandra che invece è durata dall'episodio 236 Al 236+, parte 2 Quindi sostanzialmente anche questa qui è morta durante la seconda live E... quindi sì, ragazzi Insomma, non sono durate molto, devo dire, questi due mob Purtroppo E... quindi la mia idea sarebbe poi anche quella di riuscire a creare Un... un nido Un... un... insomma Un posto in cui mettere l'altra salamandra che abbiamo trovato Perché sì, ho trovato un'altra salamandra Che in questo caso è completamente rosa Quindi... viva le salamandre Che cosa andrò a fare in questo episodio? Beh, in realtà non lo so neanche io Perché abbiamo costruito una cosa che ci dirà per noi Che cosa dovremmo costruire Vedete questa faccia scavata nella roccia? Ok, è stata un'idea mista tra mia e vostra Che sostanzialmente funziona così Vedete, qui c'è un bottoncino Questo bottoncino qui Quando io premo il bottoncino c'è un meccanismo Che fa sputare da quel dispenser Tra l'altro, grazie a Hendrix per aver costruito il meccanismo Farà sputare un item E che cos'è che c'è qui dentro? Beh, se riesco ad aprirlo Ok, ci sono tutti quanti degli oggetti Ok, quindi per esempio Stanza della metista Acquario per la salamandra Aggiornare il giardino Decorare l'iron farm Costruire una cattedrale gotica Sotterranei della base Area giapponese Mura di cinta E torri di guardia Completare tutti gli advancements Allora, questi qui sono degli obiettivi Che mi sono posto di riuscire a costruire E che appunto verranno sorteggiati a caso Dal randomizer, potremmo dire Di Minecraft All'interno del dispenser E quindi quando cliccherò il pulsante Lui mi dirà che cosa dovrò andare a costruire A che progetto dovrò dedicarmi Ho pensato di fare questa cosa, ragazzi Perché secondo me è davvero davvero carina Così c'è anche quella sorta di allone di mistero Nel dover, insomma Scegliere ogni puntata che cosa costruire Perché magari tra l'altro non ogni puntata Perché potrebbe richiedere diverso tempo Completare uno di quegli obiettivi E poi sono obiettivi che chiaramente Posso portare avanti anche in live Quindi direi che a questo punto Posso andare a cliccare pulsantino Ok, è stato sparato il foglio di carta E andiamo a leggere che cosa contiene Ok, eccoci qui Completare gli advancements Pesa, raga Questo pesa Questo è davvero tosto Completare tutti gli advancements Allora, ce la possiamo fare Non è difficilissimo O meglio Possiamo iniziare Non dovrebbe essere eccessivamente complicato Perché la maggior parte delle cose Le abbiamo già fatte E chiaramente per alcuni invece dovremo aspettare Perché, insomma, non possiamo fare tutto quanto Alcune cose sono proprio impossibili da fare al momento Quindi, completare tutti gli advancements Allora, gli advancements sono questi qui sostanzialmente E sono quelli che, per l'appunto Ti fanno capire se hai effettivamente completato tutto il gioco Allora, per il Nether Abbiamo Portare un ghast nell'overworld E poi ucciderlo Ok, questo pesa, raga Questo sarà davvero difficilissimo Country load, take me home Dobbiamo utilizzare una bussola su una lodestone Per settare lo spawn nel Nether O meglio, l'orientamento nel Nether Summonare un wither Quindi un wither boss Questa cosa l'avevo in realtà già fatta Perché sennò banalmente Non potevo costruire il beacon Però mi sa che è stato tipo resettato Per qualche motivo A causa dei vari cambi di versione Però ok, non c'è problema Possiamo farlo Beaconator Porta il beacon alla sua potenza massima E anche questo tecnicamente l'ho già fatto Però possiamo rifarlo Non c'è problema E four use cocktail Devo prendere tutte le pozioni E berle tutte quante Avere tutti gli effetti combinati Questo sarà davvero difficilissimo Poi questo qui Settare lo spawn point nel Nether Distrarre i piglin con l'oro Già fatto mille volte però va bene Raidare uno strider Uno strider Anche questo si può fare Raga, quelli del Nether sono abbastanza pesanti Devo dire Jump into anony block To break your fall Ok Questo possiamo già farlo ora Tecnicamente Is it a bird? Guardare un parrot con uno spyglass E guardare invece un ghast Con uno spyglass Ok, alcune cose possiamo già farle Dicevo Quindi perché non farle? Dunque la prima cosa che direi di fare È andare di sopra Nella nuova stanza Quindi saliamo utilizzando Il nostro fantastico ascensore E voglio andare a prendere il mio spyglass Che ho craftato tra l'altro Poco fa Cioè insomma Un paio di puntate fa Per andare a guardare il bird Che abbiamo qui in casa Tanto Insomma non è un problema Andiamo un attimino a guardarlo E dovremo aver fatto un altro advancement Ok Eccoci qui Perfetto Ok Tu sei un bird Quindi se ti guardo tramite questo Is it a bird? È un uccello? Sarà un aereo? Sarà un uccello? Non lo so Però di fatto La achievement l'abbiamo completato Ok il prossimo step potrebbe essere Quello di saltare su un honey block Tra l'altro è una buona scusa per fare un honey block Che non ho ancora mai craftato Allora prima di tutto andiamo a dormire Tra l'altro vedete che Ho appena settato lo spawn point Perché in realtà io ero andato a dormire La scorsa notte in un punto diverso Non vi posso ancora dire dove Però insomma un punto diverso Allora per fare questo achievement In realtà mi servirà un campfire Perfetto abbiamo il campfire Facciamo in questo modo Mettiamo il campfire Perfetto Le api dovrebbero essere stordite E facciamo così Easy Tra l'altro ragazzi Non so se lo sentite Ma c'è una musica leggera Leggera Ed è una cosa nuova Della Della Bdubs Ci sono le musiche Di Itale Che ovviamente Vabbè lo saprete tutti Che cos'è Itale Ma sostanzialmente Per chi non lo dovesse sapere È quel gioco Che ormai tanto non uscirà mai Che assomiglia a Minecraft Creato dallo studio di iPixel E niente ragazzi Ho deciso di lasciarle le musiche Perché devo dire che Mi semplificano prima di tutto La vita in fase di montaggio Mi rendo conto che non compaiono Costantemente Quindi non avremo sempre La musichetta in sottofondo Però in realtà Questa è leggera leggera Appena appena accennata E così non devo metterla io in montaggio Ragazzi purtroppo Ultimamente ho davvero Pochissimo tempo Per editare E questa cosa mi semplifica Di brutto la vita E queste musiche Sono davvero davvero carine Sono appena appena accennate Ma sono molto belle Ok e infatti qui C'è un alveare Quindi posso andare subito A metterli qui sotto Questo E Zac Perfetto Allora a questo punto Tra l'altro posso direttamente Fare il blocco Ah Onecomb Bloc Bene Come faccio a fare il miele Ragazzi Ah ma il miele Si fa in questo modo Eh ma chi lo sapeva Ok allora le boccettine di One Comunque ce l'ho a casa Allora sono a posto Dai nel chilling Ce le ho le boccettine di miele Vero? Sì che ce le ho Easy Easy ragazzi Fantastico Ok facciamoci subito Questo blocchettino di miele Ce l'abbiamo E tra l'altro Così per sfizio Mi faccio pure Un blocco Di Onecomb Bloc Perché non ce l'avevamo ancora E secondo me è un blocco Molto molto carino Che vorrei utilizzare Prima o poi da qualche parte Ok allora Devo semplicemente Pararmi dal danno da caduta Quindi io Tipo Vado a mettere Il blocco di miele In questo punto Guardate che carino Che è Tra l'altro Vedete che Ci resta appiccicato In teoria Ok sì Sono restato appiccicato al miele Fatemi vedere un attimino L'advancement Jump into a honey block To break your fall Quindi Scusa Se io faccio così no Non funziona Non funziona Ah no ragazzi Sticky situation Ce l'abbiamo fatta Ok Tra l'altro mi sono portato a casa Anche un B nest Che ho trovato Perché voglio andare a posizionarlo Da quella parte Là nella base In modo da avere B nest Più o meno sparsi ovunque Comunque Direi che per questo episodio è tutto Spero che vi sia piaciuto E nella prossima puntata Continueremo A completare gli advancements Che a questo punto Sono un bel po' Total B location Ok ragazzi Ci sono A parte i nomi che sono fantastici Direi che per il momento Ci salutiamo qui E ci vediamo Nella prossima puntata In cui continueremo Questa nostra magica avventura Nel mondo Della serie di sopravvivenza Mi raccomando Voi fate bravi E passate in descrizione Dove troverete i link Per telegram Per il canale Degli altri ragazzi Della bio E per nitrado Mi raccomando Passate anche da nitrado Perché i loro server Sono ottimi Ci vediamo Nella prossima puntata Ragazzi Per il momento è tutto A essere next time Ciao a tutti Ciao a tutti